Benvenuti a questo video introduttivo sul Service Learning. Vi ricordo che tutti i materiali presentati sono soggetti a copyright in base alle indicazioni Creative Commons, By, vale a dire chiunque utilizzi questi materiali è tenuto a citare la fonte, e Non Commercial, vale a dire i materiali possono anche essere utilizzati ma per finalità non commerciali. Innanzitutto una breve introduzione. Vediamo in altre parole cos'è il Service Learning e poi anche a cosa serva. Il Service Learning è sostanzialmente un approccio pedagogico, più che una vera e propria metodologia, che unisce apprendimento e servizio alla comunità, da qui il nome. Uno degli equivoci che spesso è presente a proposito del Service Learning è quello di inquadrarlo come un volontariato. Ebbene, il Service Learning non è una forma di volontariato, anche se condivide con il volontariato l'attenzione e la sensibilità ai temi sociali. Questo perché il Service Learning, come dice anche la parola, oltre a essere orientato a dare un servizio alla comunità, è particolarmente interessato alle ricadute di apprendimento degli studenti. Quali sono gli elementi costitutivi di un Service Learning? Potremmo individuarne tre. Il primo, gli studenti hanno un ruolo attivo in tutte le fasi del progetto. Il secondo è che le attività solidali devono rispondere a un reale, vero, vera esigenza della comunità di cui la scuola fa parte. E infine, l'azione solidale deve essere sempre parte dell'apprendimento, non deve essere qualcosa di scisso dall'apprendimento. Queste, potremmo dire, le tre caratteristiche costitutive del Service Learning. Vediamo ora cosa può servire. La premessa è che si tratta di un approccio di una strategia attiva, vale a dire quelle strategie che vogliono mettere lo studente al centro del proprio apprendimento, come la classe capovolta, come digital storytelling, l'apprendimento tra pari, l'apprendimento cooperativo, per esempio. A questo proposito, potremmo dire che il Service Learning serve innanzitutto a far sentire protagonisti ragazzi, protagonisti del proprio apprendimento, ma anche della propria comunità. Allo stesso tempo, un'altra utilità di questo approccio è, in un certo senso sociale, vale a dire, sensibilizzare gli allievi a farsi carico non solo dei propri bisogni, ma anche di quelli dell'ambiente in cui essi vivono, vale a dire, della propria comunità. E poi, e forse questo è l'aspetto più importante che sta nello sfondo, il Service Learning serve a comprendere che l'apprendimento non è mai scisso dall'azione, non è mai diviso anche da un contesto situato, da un contesto reale. E in questo senso ci vengono in aiuto due citazioni interessanti. Una è di Foucault, il quale dice appunto che il sapere non è fatto per il sapere, cioè per il solo comprendere, ma per prendere posizione. E un'altra, se vogliamo, un po' desueta di questi tempi, è quella di Aristotele, secondo cui l'importante non è solo conoscere il bene, ma farlo, ma essere buoni, fare il bene. Vediamo ora le implicazioni Service Learning e Indicazioni Nazionali. Ora, le Indicazioni Nazionali non parlano direttamente di Service Learning, tuttavia in più punti potrebbero richiamarlo e vediamo come. Nelle Indicazioni Indicazioni Nazionali si parla di competenze come obiettivo, come orizzonte, come prospettiva. Le discipline in tal senso sono uno strumento e, ed ecco l'aspetto che ci interessa, l'ambiente di apprendimento è una condizione. In questo caso l'ambiente di apprendimento va oltre la classe, oltre l'aula, come recita il titolo di un testo di uno dei massimi esperti italiani, Italo Fiorin di Service Learning. Un altro aspetto relativo alla competenza è che in essa possiamo individuare tre livelli. Una competenza, in un certo senso, strumentale, una anche culturale e poi un'altra dimensione della competenza è quella sociale, che dunque è forse l'aspetto che più ci interessa a proposito del Service Learning. Dunque le Indicazioni Nazionali non parlano direttamente di questo aspetto, ma in un certo senso lo prevedono e lo presuppongono. Vediamo ora quella che, con un termine molto felice, Italo Fiorin ha chiamato carta d'identità del Service Learning. Vale a dire le sue caratteristiche che lo differenziano da un altro approccio. Ne vengono individuate otto. Allora la prima, curricolare. Ogni approccio di Service Learning dovrebbe fare riferimento a un aspetto che appartiene al curriculum di studio degli studenti, quindi non è altro, non è qualcosa di diverso dalla didattica. È diverso il modo di raggiungere quel curriculum, non l'argomento del curriculum. Un'altra caratteristica è che lo rende intrinsecamente interdisciplinare. Un Service Learning di qualità dovrebbe coinvolgere più discipline, in altre parole, oltre che la pratica sociale. Un'altra caratteristica è quella di essere orientato alle competenze, dal momento che non punta l'obiettivo sui saperi, soltanto sui saperi, ma sulle competenze. Il quarto aspetto è forse tra i più importanti. È orientato all'apprendimento significativo. L'apprendimento significativo è quello che viene maggiormente interiorizzato dagli studenti ed è quello legato al loro vissuto, legato alla loro comunità ed è anche l'apprendimento che nel tempo noi tendiamo a trattenere di più, a fare nostro. Un altro aspetto veramente molto significativo del Service Learning è quello che è un approccio orientato al cambiamento, al cambiamento anche sociale. Service Learning parte quasi sempre da situazioni di criticità e debolezza della comunità e vuole portare un miglioramento, appunto un cambiamento, ma non solo della comunità, anche di se stessi, in quanto si diventa più sensibili rispetto a delle tematiche di natura sociale. È poi naturalmente partecipato per la sua stessa natura, perché nel Service Learning si va a intervenire su una realtà non individuale, non personale, ma una realtà appunto comunitaria. Responsabilizzante perché necessariamente quando si fa Service Learning ci si prende la responsabilità di realizzare un servizio, anche piccolo, anche limitato, ma un servizio. È collaborativo perché qualunque attività di Service Learning non può essere pensata, concepita e eseguita in singolo, ma necessariamente in gruppo. Ora vediamo le fasi di un Service Learning. Vada a dire, poniamo l'ipotesi di volerlo implementare in aula, vediamo quali sono i passaggi. Non esiste un vero e proprio unico protocollo, tuttavia dei passaggi sono abbastanza condivisibili e sono questi. Il primo, la motivazione, chiedersi perché si vuole fare un intervento piuttosto che un altro. E questo lo si condivide con gli studenti e naturalmente sulla base delle esigenze della comunità. Diagnosi. Secondo punto, vale a dire, chiedersi quale possa essere la soluzione. Terzo punto, pianificare il modo di attuarla, quindi ideare un piano fattibile e allo stesso tempo cercare di pianificarlo. Quarto punto, il più lungo, il più impegnativo, l'esecuzione. E infine, chiusura del progetto e valutazione dello stesso. Vediamo ora qualche esempio di service learning per rendere il discorso più concreto tratto dalle esperienze svolte in Lumsa, la quale ospita un'importantissima scuola di alta formazione proprio dedicata al service learning. Questi esempi possono essere reperiti proprio nel sito della Lumsa che mette a disposizione dei pdf molto chiari con tutto il protocollo di lavoro. Un primo esempio è dedicato a la differenziata. Il titolo fare la differenza con la differenziata. Nella slide vediamo A dove è apprendimento, S dove è servizio. Questo progetto svolto nella scuola primaria ha come obiettivo di apprendimento conoscere il ciclo dei rifiuti e comprendere i rischi dell'inquinamento. Poi questo si coniuga con il service, vale a dire saper fare la raccolta differenziata, parliamo di bambini piccoli, e eventualmente stimolare anche il riuso possibilmente creativo dei rifiuti stessi. Un altro progetto di service learning è quello della cooperativa scolastica. Anche qui l'obiettivo di apprendimento è conoscere le regole di una comunità e comprendere il concetto di cittadinanza attiva, quindi vediamo aspetti curricolari, e poi andiamo al service, raccogliere fondi per un ambulatorio in Kenya e di conseguenza anche aumentare il senso di inclusione scolastica. Ora il Kenya è una realtà altra da quella in cui è stato concepito e attuato il progetto, tuttavia in questo senso l'obiettivo non era solo quella della raccolta fondi, ma aumentare anche il senso di inclusione scolastica, vale a dire, del contesto in cui il progetto è stato attuato. Un altro esempio, questa volta della scuola secondaria, di secondo grado, turisti coccolati, sorrisi donati. Cioè linguistico, obiettivo di apprendimento, conoscere la geografia economica e turistica, in particolare i flussi di arrivo dei turisti, comprendere un lessico L2, c'è un lingua straniera, inglese e tedesco per esempio, relativo al turismo, un lessico tecnico, e poi il servizio è offrire un servizio di accoglienza turistica, i ragazzi in effetti organizzavano dei punti di accoglienza, e poi un altro servizio conferito alla comunità è monitorare l'applusso dei turisti durante il corso dell'anno. Vediamo ora qual è lo stato dell'arte del service learning in Italia. C'è da premettere che si parla abbastanza di service learning, soprattutto ultimamente quando si discute anche di alternanza scuola-lavoro, sebbene service learning non sia, naturalmente, alternanza scuola-lavoro nel modo più assoluto, ma ancora poco è diffusa questa pratica. Al contrario, in altri paesi, specialmente l'America Latina, l'Argentina per esempio, ma anche Stati Uniti, l'Olanda, è una pratica abbastanza diffusa. Qui possiamo vedere un grafico abbastanza interessante, dove in un asse cartesiano vengono mostrati alcuni aspetti che in un certo senso ruotano intorno al service learning. Nell'area verde vediamo che si colloca il service learning, AS sono apprendimento e servizio, e area verde perché in esso, nel service learning, c'è il massimo dell'apprendimento e il massimo del servizio. Al contrario, ruotando in senso orario, vediamo che le ricerche sul campo, gli stage, hanno un alto grado di apprendimento, ma minore l'aspetto del servizio, così come ancora minore lo è quello dell'apprendimento nelle iniziative solidali, che hanno un alto grado di servizio, ma un basso apprendimento, e poi il servizio civile istituzionalizzato, che naturalmente è qualcosa di differente, anche se condivide in parte gli aspetti del service learning. Altre situazioni in Italia, tavolo di lavoro al MIUR, con rappresentanti di tre regioni, che sono Toscana, Calabria e Lombardia, e il coordinamento scientifico proprio di Italo Fiorina, di cui dopo vedremo una breve bibliografia. L'area Lombardia è una delle regioni che maggiormente ha preso a cuore il tema, infatti c'è tavolo di lavoro regionale e vari progetti in atto, e poi non è possibile non citare la LUMSA, la scuola di alta formazione proprio sul service learning. Quali sono i vantaggi e i benefici che questa prassi può portare in aula? Naturalmente, come ogni metodologia attiva, il service learning non è adatto a tutti i contesti, non è adatto a tutti gli argomenti. Tuttavia, diversi sono i vantaggi. Qui ho cercato di isolarne alcuni. Naturalmente il primo è il maggiore senso di responsabilità, soprattutto in ambito sociale, un potenziale miglioramento delle relazioni con gli altri, sia in senso orizzontale, cioè in aula, che in senso verticale, vale a dire col docente e con soggetti esterni alla scuola. Una più attenta sensibilità alle diversità culturali, in quanto il service learning spesso si orienta a progetti di questo tipo. Il quarto punto è forse quello più importante. Il vantaggio del service learning, come in generale delle metodologie attive, è quello di creare un apprendimento più significativo in quanto situato, in quanto calato in un contesto reale, autentico. Un altro vantaggio, che non è tipico del service learning, ma in generale delle metodologie attive, vale a dire quelle che si sforzano di mettere al centro l'alunno, è una più stretta relazione docente-allievo e dunque un clima scolastico potenzialmente più disteso. Breve bibliografia, alcuni testi di riferimento. L'argomento è particolarmente recente, tuttavia esistono già dei testi a cui poter far riferimento. Forse il punto di partenza obbligato è proprio questo. Italo Fiorino oltre l'aula, una proposta pedagogica, di service learning per mondadori. Sempre di Italo Fiorino, un altro testo che parla di pedagogia didattica nella scuola inclusiva, scuola accogliente, scuola competente. Altro testo del 2014, Laura Selmo, democrazia, impegno ed educazione, sottotitolo appunto metodologia del service learning. E poi, questo è un testo di una importante studiosa argentina, Maria Nieve Stapia, la quale ha illustrato da molti anni service learning in Argentina e anche al di fuori dell'America Latina, dove questo progetto è particolarmente sviluppato e della se ne occupa dal 1995. Educazione e solidarietà, la pedagogia dell'apprendimento servizio così è reso anche nella sua lingua. Bene, io ringrazio per l'attenzione. È possibile organizzare dei workshop e corsi di formazione dall'approccio laboratoriale nei quali si simula un intervento di service learning. E i contatti sono questi, in particolare la mail info-designdidattico.com